Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ricorrere dovremmo a una geniale soluzione con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato un alfabeto a chiave tra noi due si è combinato così che ad ogni istante noi possiamo comunicar la radio Galeotta ogni ora ci serve da compare quando la radio trasmette da Torino vuol dire stasera ti attendo al Valentino ma se ad un tratto si cambia di programma questo vuol dire attento c'è la mamma radio Bologna vuol dire il cuor di sogna radio Milano ti penso da lontano radio Sanuevo stasera forse ci vedremo e radio Igea vuol dire lontano da te mi sento morire così l'amore fila nell'accordo più perfetto tra me e la signorina della casa di rimpetto si svolge a suon di musica di geste concertini tra un tango di barstiza e una polca di angelini oh quanti appuntamenti amore mio ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano perfino Petralia la Fioresti e il Trio Nessan i suoi accordi risvegliano i ricordi tra si sommette e tenere promesse e adesso è rotta la vecchia radio Galeopla che importa o dolce amor i nostri cuori cantano ancora grazie a tutti grazie a tutti